Se vuoi so io come non farti annoiare Davvero? Sono entrato in questo server e mi sono camuffato in una ragazza Qual è il mio vero nome? Mi raccomando, scrivimelo qua sotto nei commenti, voglio sapere se lo sapete E che ragazza ragazzi, guardate che fianchi, guardate che stile proprio E appunto adesso il mio obiettivo è quello di fare arrapare le persone che stanno qua dentro All'interno di questa discoteca e voglio vedere se ci riesco Intanto non so cosa sta facendo questa qua da fianco a me Ma che cacchio, perché mi vuole andare addosso questa tizia, mi vuole prendere Comunque andiamo subito a vedere se c'è qualcuno al club con cui provarci E magari un qualche bel maschione, eh Andiamo, 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 sono curioso di sapere quello che accade Via, ok, ok, qui ci sono diverse già persone E sono italiani perché ho letto in chat che sono italiani Eh, salve La fagiana, ma cosa, ma perché la fagiana quella ha scritto, va bene Eh, ciao Oh, che carina, mi sta salutando Uh, ciao Oh, che bello E c'è questo qua che è noia Ok, allora scriviamogli noi ragazzi Scriviamogli noi Gli scrivo Se vuoi So io Come Non farti Annogliare Eh Vediamo un po' Vediamo un po' cosa mi dice questo qua seduto sulla sedia Nulla Eh, censurato Speriamo che, che ritorni Dammi una pinta Ma Aspetta, aspetta Voglio pure io qualcosa Tipo una bella Coca-Cola Davvero? Eh Già Vuoi Provare Ah, mamma mia ragazzi Adesso mi compro questo tizio E c'è E lo faccio sposare Eh, come pensi di fare bambolina? Eh, pure Ah, mi chiama bambolina Aspetta, aspetta Ora io lo dico Eh Vieni E lo scopri Da solo Una cola cola Con la cannuccia hotta Vabbè Mi raccomando Lasciale in questo momento Così che appunto Puoi continuare con il video Esatto Bravissimo Ecco che stanno arrivando i like Stanno arrivando i like Perfetto Puoi andare Eh Va bene Buonissima la Coca-Cola Però non la voglio più Eh Va bene Bimba Ok Mi chiama bimba Addirittura Ora Ora vi faccio vedere Cosa accade Stando con Sbrizer Camuffato da donna Intanto Lo porto nella mia macchina Da lusso Ok Perfetto Ti piace Ti piace La mia macchina Che poi tra l'altro Questa macchina Si prende con il pass Quindi È anche una macchina Insomma Per persone Baby Eh Sì 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 Lo so Madonna Quoi ci sono un sacco di case Già messe Però voglio portarle In un posto unico Ovvero Dove Praticamente Sta La Come si chiama Il lago Il lago Ragazzi Voglio portarle al lago Perché lì si comprano le cose Eccoci Perfetto Ok Ok Adesso lo porto in casa mia Vieni Ok Perfetto Ovvio di mi sto seguendo Perfetto Ottimo Guarda che bel sedere che c'ho Zio Mamma mia Questo qua Fai faville Allora Adesso Andiamo qua E metto Una delle case Più grandi Che ci sono Ovvero Questa Esatto Proprio Tutte quelle con le stelle Tutte quelle da premium Ecco qua Non guardare l'immagine mia Stai tranquillo Sono sempre una ragazza Ok va bene Baby Benvenuta Benvenuto Nella Mia Timora Sei ricca Sei ricca Sì Il mio papi Il mio Il mio papi Mi 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 da Tanti soldi E Sono molto Permissivi I miei La prima volta Che mi sono Truccata È stata A quattro anni Mi fanno fare Mi fanno fare Tutto Quello Che voglio Ho già Ho già Avuto Cinque Ragazzi Anche i miei Bambolina Oh bello 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 Allora andiamo Cioè a posto Ragazzi Perfetto Siamo Siamo in Siamo messi bene Allora Aspetta Aspetta Siediti Che ti porto Da mangiare Qualcosa Perfetto Vai Siedi Siedi Ok bravo Ok si è messo lì E si è seduto Perfetto Prepariamogli qualcosa Vediamo un po' Cosa posso prendergli Come funziona Non lo so Non ho mai cucinato Su Roblox Ragazzi Scusatemi Posso metterlo qua sotto No Però vedrai Un gelatino Posso prenderlo Vero Ok gelatino Prendo questo Quanta roba Porca miseria Veramente questa è una Cassata ricca Ok chiudiamo Perfetto Va bene Ok abbiamo preso tutto Credo che posso Andarlo a dare Ok Bene Tieni Tieni caro Tieni Ok Ok Bene 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 Guardate Ok Mi piace Il mio Pancake Buonissimo Baby Sì Baby Uh Gli piace Tanto Il mio Pancake Eh Sì Baby Eh Allora Vuoi Assaggiare La mia Di pancake No 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 È censurato Eh Vuoi Vuoi Mangiare Me Oh Questo Me lo fa scrivere Ok Vediamo cosa Accade Eh Eh Sono curioso Comunque Ragazzi Oh Beh Se me lo chiedi così Oh Oh Già è pronto Già è pronto Già è pronto Lì già è pronto Lui Attenzione Oh Attenzione 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 Allora Mamma mia Ragazzi Allora Andiamo al momento Più hot Allora Allora Seguimi Ok Vediamo cosa Accade Ok Perfetto Ok Ora Faccio Metto Così Cosa sto Oh Cacchio Aspetta Non riesco a mettermi Ok Perfetto Ok Voglio No ragazzi Cosa Voglio vedere se questo Voglio vedere che Mott mette questo qua Se magari è uno bravo Voglio vedere Non dovremmo Buf Ahahahah Cosa stanno vedendo I miei occhi Oh Mio Dio È bruttissimo Essere una donna Su Roblox Perché accade questo Eh Brava baby Eh Bene Eh In realtà Devo Devo dirti Una cosa Dimmi Io In realtà Sono un uomo È schifo Ahahahah Aiuto Vieni Dai Vieni Vieni Perché te ne scappi No Non andare via Sono bravo Comunque Vieni Vieni No Vieni Dai Ehi Ma perché non riesco a scrivere Più niente Truffatore La faccina Per Rocco e Siri La posso fare Perfetto Ok Ottimo No Ahahahah Ah Mamma mia Se lo merita Questo perché ci prova Con le ragazzine Di Roblox Ahah Io sono il vostro custode State tranquille Stai tranquille Mamma mia Ok cosa Aspetta Cosa 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 vuole Ma tu sei ricco Sì Cioè No Cioè Sì Ma tu sei ricco Sai Sai Cosa 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 sta pensando questo Forse potrei accettarti Anche da maschio Scappiamo 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 Uh uh Pure mi ha scritto Oddio Scappa 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 Oddio No 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 Non farlo salire Non farlo salire Oh no È salito Come ha fatto Oh no Devo buttarlo giù Devo buttarlo giù Devo buttarlo giù Come faccio a buttarlo giù Non posso buttarlo giù Eh Posso stare a riuscire a massima Ah Posso Aspetta Vado veramente al massimo Oddio Non sapevo Che si poteva andare più al massimo Di quello che si può andare Come faccio a farlo uscire Ragazzi Non c'è come Oddio No 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 Ma che andiamo baby Dai via Da me Oh no Non ci voglio credere Ragazzi Quello che Questo è quello che accade Se le persone Mi vedono ricche Oddio Ma come fa Ma mio dio Ma io me ne scappo E lui arriva Dal nulla Vabbè Comunque Ritorniamo al club Ok Così almeno lo lasciamo lì E non ci dà più problemi Ecco Andiamo qua Dai baby Torniamo a casa Ma proprio Col cacchio proprio No zio Oh Oh Lasciami Lasciami Ti ho detto che sono un maschio Oh no Ciao